Fine settimana di sangue, coltellate tre persone tra Salerno e Ponte Cagnano. Uno straniero nella notte tra sabato e domenica dinanzi a un locale a Ponte Cagnano, Faiano, ha ferito con un'arma da taglio la compagna e un'altra donna, entrambe marocchine, e poi è fuggito via. Il movente sarebbe inerente a motivi passionali. Le ragazze versano in condizioni stabili, ma con ferite multipe, da cui una profonda al volto. Sul posto i carabini della compagnia di Battipaglia, diretti dal Maggiore, Vita Antonio Sisto e i soccorritori del VOPI che hanno trasportato le ferite in ospedale. Invece è stato arrestato un gambiano per l'accoltellamento di un magrebbino alla stazione di Salerno. A bloccarlo gli agenti della Polizia di Stato e un 19enne africano con le accuse di lesioni aggravate, resistenza e violenza pubblico ufficiale. Per motivi in corso di accertamento, il gambiano, con un fendente accolpito al torace, il marrocchino, provocandogli la perforazione di un polmone. In ospedale è stato giudicato guaribile in 30 giorni. Il gambiano è stato arrestato e portato presso il cacere di Furni.